Notte di Natale in tenda al cimitero comunale di Niscemi per dire no all'installazione del MUOS, un potente sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza a banda stretta, composto da quattro satelliti e quattro stazioni di terra, di cui una in fase di realizzazione a Niscemi. Protagonista dell'insolita protesta è Giuseppe Maida, cittadino di Niscemi, che ha così spiegato le motivazioni che le hanno indotto a scegliere proprio il Campo Santo per opporsi al MUOS. Il cimitero è simbolo di rispetto e simbolo anche di morte. La mia aspirazione è quella di non rassegnarmi, di non arrendermi e così la gente di Niscemi di non arrendersi a questa maledetta sventura che ci è capitata addosso. I niscemesi devono capire che la sera di Natale, dalla vigilia di sabato alle 10 all'indomani del Natale stesso, io mi trovo qua davanti al cimitero in tenda per protestare contro le antenne MUOS. Giuseppe Maida già nel passato avanzò al governo americano la proposta di riconvertire la base militare a Museo Internazionale dello Spazio. Maida non si arrende, pertanto ha lanciato un appello a tutta la cittadinanza affinché possano sostenere la protesta civile e silenziosa proprio la notte di Natale. Faccio un appello alle persone a che vengano qua a firmare il manifesto perché sarà inviato al Presidente della Repubblica, al Prefetto, al Ministro della Difesa e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Voglio che la gente prenda coscienza di questo perché non ci sarà futuro né per i nostri figli né per la nostra economia.